Paolo Brivio, Presidente Consorzio CRT, a gennaio Unica TV sarà sul canale 75. Che cosa succede per i nostri telespettatori? Come ha detto lei, se l'utente non vedrà più Unica sul canale 12 o Sondio 193, si intorrerà in ristitonizzando il televisore e componendo il numero 75 si dovrebbe ritrovare il canale Unica, l'Ecco e Sondio, in un unico canale. L'LCN è 75. Se ci fossero problemi nella ristitonizzazione? Gli installatori elettrici che fanno parte del Consorzio, ma anche altri installatori elettrici elettronici, sono disponibili a supportare l'utente per risolvere questo problema, che dal 90% sarà risolvibile dall'utente stesso. La disponibilità c'è, se dopo queste indicazioni che abbiamo dato, il segnale di Unica non lo ritrova l'utente, chiama l'installatore, ci potrà essere una sola risintonizzazione, un caso di condominio, in casi particolari, anche interviene sull'impianto d'antenna, perché bisognerà far rientrare determinati canali che in questa risintonizzazione, l'impostazione delle frequenze, non erano state installate precedentemente. Grazie.